Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non è così, la legge non ha senso, se noi non equipariamo i diritti delle coppie tra sposati e uniti civilmente, noi avremo comunque una discriminazione che per la nostra Costituzione è vietata. Un'ultima domanda poi la lasciamo andare perché sappiamo che c'è un altro convegno che l'attende. Lei pensa che le famiglie, formate ad esempio da persone dello stesso sesso, abbiano delle differenze a livello di volontà di riscontrare questi diritti in una società che è sempre più pronta ad accoglierle? Le famiglie, qualunque tipo di famiglia ha diritto a stare con pari dignità e pari certezza del diritto dentro uno Stato. Uno Stato laico, uno Stato che si fonda su una Costituzione democratica e quindi famiglie di eterosessuali, di omosessuali, famiglie di risposati, conviventi, chiunque decide di unirsi per amore ha diritto a vedere riconosciuti i propri diritti. La ringrazio Sanatrice, buon lavoro e buon congresso. Buon lavoro a voi, arrivederci. Buon lavoro a voi, arrivederci.